quando ci penso poi mi manca l'aria è una diffida non è cioccolata nota musicale è suonata più o meno così nella mia testa la diffida che elettra lamborghini ha fatto a sua sorella ginevra e al grande fratello vip questo perché non vuole che né sua sorella né il reality parlino di lei a honor del vero ginevra ha sempre parlato benissimo di sua sorella ma a quanto pare la decisione dell'interprete di pem pem è definitiva durante la diretta il video potete recuperarlo qua ginevra lamborghini ha anche fatto un appello a sua sorella io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella come mai ha deciso di chiudere con me questa domanda mi è stata posta molte volte dai miei amici dai miei conoscenti dalla mia psicologa incoraggio tutti ad andare dallo psicologo per levarsi i pesi dal cuore parlare delle proprie debolezze non do la colpa ai miei genitori del nostro distacco non in colpo nessuno i miei mi hanno consigliato di andare avanti fanno fatica anche loro inquadrare questo rapporto mi dicono vai avanti per la tua strada le cose cambieranno sarà lei a tornare se vorrà non ci sono motivazioni la punta dell'iceberg potrebbe essere che forse c'è stata una paura di essere prevaricata o oscurata da me questo perché anche io mi sono messa a cantare come lei ma non credo sia così poi magari potremmo farle insieme certe cose anche se mi deve mandare a quel paese elettra ti prego dimmi qualcosa elettra lamborghini ha diffidato sua sorella e il gf vip se me lo aspettavo no però è ok non me lo aspettavo però conoscendola lo avrei potuto immaginare pecco di ingenuità la mia porta rimane sempre aperta sempre le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato e torbido ma questo perché ero accecata dalla rabbia sentirmi esclusa mi ha molto ferita ma per questo le chiedo scusa